Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regione della Pace, del Sacro Cuore di Gesù e delle mie pagine personali. Ci ritroviamo dopo un lungo periodo di pausa per riprendere queste trasmissioni sulle apparizioni della Beata Vergine Maria a Fatima. Siamo alla quinta apparizione. Iniziamo subito con un momento di preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cedi, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo donna loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, Principe delle milizie celesti, difendici nella lotta. Sì, il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo. E tu, col divin potere, in catena dell'inferno, sata negli altri spiriti maligni, che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. I nostri santi protettori, pregate per noi. Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Fatima, prega per noi. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Bene, all'inizio di questa trasmissione saluto un po' tutti gli amici che siete collegati in diretta. Dunque, Patrizia Moxedano, Grazia Boieri, Anna Cerviere D'Urso, Alfonso Notte, Rossella Facciolo, Francesco Ungaro, Serena Logatto, Beneranda Vuolo, Tina Longo, Carla G, Nica Manno, Maria Del Duca, Caterina Francone, Guido Patalano, Giovanna Albano, Luisella Manuritta, Angela Fedele, Paolo Dell'Una, Giovanna Moretti, Anna Menduri, Vesna Boievac, Dani Bielli, Maria Rigozzo, Anna Lucia Insalata, Rosaria Zanfardino, Alessandra Fusca, Ape Carmela Cataldi e tutti voi che siete in diretta, siamo tantissimi, come sempre. Bene, mi fa piacere che queste trasmissioni siano abbastanza seguite. Vi chiedo all'inizio della trasmissione di mettere un mi piace e di condividere su tutte le vostre pagine Facebook per diffondere sempre più in questo ormai avvenuto centesimo anniversario delle apparizioni della Beata Vergine Maria Fatima per conoscere più profondamente quello che la Madonna vuole da noi e ascoltarlo proprio dalle sue parole che sono state riferite fedelmente da Sor Lucia dos Santos. Oggi Santa Lugia di Fatima. Andiamo, prima di iniziare il commento però, vorrei che comprendessimo l'importanza di queste apparizioni per il secolo che è trascorso e per il tempo attuale. Giovanni Paolo II ne comprese fino in fondo la grandezza di queste apparizioni, specialmente come sappiamo dopo che nel 1981 fu colpito in piazza San Pietro e fu sul punto di morire e quindi questo servì a lui da stimolo per riprendere i segreti di Fatima per farli poi interpretare dal cardinale Ratzinger e poi per fare una drammatica preghiera, una consacrazione del mondo a piazza San Pietro dinanzi all'immagine della Beata Vergine Maria di Fatima. E vorrei riproporvi questo video che è molto bello, questa preghiera drammatica e bellissima di San Giovanni Paolo II fatta veramente con tutto il cuore lì a piazza San Pietro, dinanzi a una piazza agremita di fedeli. Ed è stata proprio quella consacrazione che il Santo Padre fece in piazza San Pietro che ci evitò, disse poi Sor Lucia, una guerra mondiale, una guerra nucleare. Quindi l'importanza di queste consacrazioni che la Madonna chiede sembrano degli atti così semplici, no? Eppure così potenti. Sono in grado di poter formare una guerra mondiale, una guerra nucleare. Perché? Perché si dà la possibilità a Dio, alla Beata Vergine Maria, di entrare, di intervenire effettivamente nella nostra storia. Quando il cuore dell'uomo si apre, Dio può agire. Invece al contrario, quando il cuore dell'uomo è chiuso a Dio, Dio non può fare quasi nulla per noi. Ed ecco perché il nostro tempo è drammatico. Perché gran parte dell'umanità, chiaramente di cristiani, ha perso la fede. Intere nazioni si sono scristianizzate, sono diventate atee, si sono secolarizzate totalmente. Quasi tutto il nord Europa. E ormai questa peste dell'ateismo o dell'abbandono, dell'apostasia della fede è scesa fino a noi. Ormai non è più una realtà del nord Europa, ma è una realtà anche del sud dell'Europa. La Francia, la cattolicissima Francia, la Spagna, la cattolicissima Spagna e l'Italia, la sede della santa sede. Voi pensate, come ho detto altre volte, che a Torino sei giovani su dieci si dichiarano atei. E degli altri quattro non sappiamo che tipo di fede hanno. Ma sicuramente molti di loro avranno una fede sincretista, credono che esista qualcosa, ma non credono direttamente in Gesù Cristo, né professano apertamente questa fede, né si impegnano in un cammino di fede. Dunque siamo veramente in un tempo drammatico. Ascoltiamo queste parole di consagrazione e con il nostro cuore uniamoci a quelle parole, quella bellissima preghiera, nello stesso tempo molto drammatica, che il Santo Padre fece in Piazza San Pietro. O Madre degli uomini e dei tuoi uomini, Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, Tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre, che scuotono il mondo contemporaneo, a tuoi il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con l'amore di madre questo nostro mondo umano e ti affiggiamo e consacriamo pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna dell'uomini e del popolo. O cuore immacolato dalla fama, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcata. Grazie. 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 questa drammatica preghiera che il Santo Padre fece dinanzi alla statuina della Vieta Vergine Maria in piazza San Pietro, ecco e proprio per questa preghiera Sol Lucia disse che la Vieta Vergine Maria aveva accettato questa consacrazione e dunque siamo stati preservati dalla terza guerra mondiale nucleare, perché allora Antoni Socci in un suo libro, Mistero Međugorje cita un evento storico che ormai è dentro gli archivi della storia, sul mare Baltico esplose uno dei più grandi depositi di armi dell'Unione Sovietica e dunque non potè invadere l'Europa, altrimenti la Russia avrebbe invaso l'Europa e ci sarebbe stata la terza guerra mondiale nucleare, ecco proprio per questa preghiera la Vieta Vergine Maria riuscì, soltanto lei sa come fare, a disinnescare questa situazione compiendo anche degli atti prodigiosi che poi saranno raccontati da qualcuno che era addetto al deposito di queste armi e che non erano spiegabili umanamente e così fu bloccata questa terribile spaventosa guerra mondiale. Andiamo adesso alla quinta apparizione, 13 settembre 1917, la quinta apparizione della Madonna alla cova d'Aeria. Il 13 settembre alla cova d'Aeria verso mezzogiorno sono presenti 25-30 mila persone, tra queste una decina di sacerdoti in incognito e una trentina di semirristi, dunque alla prima apparizione c'erano soltanto presenti i pastorelli, alla seconda 50, poi 2-3 mila persone, adesso siamo arrivati a circa 25-30 mila persone. Si arriverà poi all'ultima apparizione a circa 50-70 mila persone, quando ci sarà il miracolo del sole. Al momento dell'arrivo della Madonna, circa due terzi dei presenti vedono nel cielo un globo luminoso che si avvicina da Levante verso Ponente, in modo lento e maestoso dirigendosi verso il leccio delle apparizioni sopra il quale scompare. La luce del sole si attenua e l'aria diventa come dorata. Quindi come vedete ci sono anche degli eventi cosmologici, quindi lo stesso creato risponde a questa presenza di Maria, l'aria diventa come dorata e alcuni, circa i due terzi dei presenti. Come mai non tutti e soltanto i due terzi dei presenti riescono a vedere questo globo luminoso che si avvicina da Levante verso Ponente in modo lento e maestoso? Perché sicuramente erano più aperti, invece quelli che avevano il cuore più indurito non sono riusciti a vedere questo globo luminoso. Ecco questo deve farci anche comprendere come noi tante volte non siamo sensibili ad alcuni segni che Dio dà. Perché lo stesso padre Pio riguarda la Santa Messa ad esempio diceva chiedete a Gesù di rivelarsi sensibilmente nella Santa Messa, cioè che quell'ostia che sembra pane, che non è più pane, ma che è diventata carne, corpo di Cristo, che quel vino che sembra vino ma non è più vino, poiché sostanzialmente il sangue di Cristo si manifestino anche sensibilmente, cioè che si senta questa presenza viva, reale di Gesù e così anche in tanti altri segni è possibile che Dio si manifesti e ci faccia sentire sensibilmente la sua presenza, come la Beata Vergine Maria, come gli angeli, come i santi. Perché noi siamo avvolti in questo grande mistero, non è semplicemente la realtà materiale che esiste, ma molto di più la realtà spirituale. Il problema è che oggi noi stiamo vivendo un tempo che il razionalismo illuminista ha accecato con questa falsa razionalità, perché non è una vera razionalità quella che esclude l'ambito spirituale, perché l'ambito spirituale fa parte della realtà a pieno titolo e Dio è il primo, la prima realtà spirituale che esiste e quindi invece il razionalismo ha escluso Dio e un razionalismo chiuso alla spiritualità chiaramente è cieco. Chiaramente bisogna fare anche attenzione a non cadere nello spiritualismo dove ogni cosa sembra un segno di Dio e tantissimo che i falsi mistici in questo tempo si stanno moltiplicando a dismisura. Bisogna fare molta attenzione perché anche ai tempi ad esempio di Bernadette c'erano tantissime ragazze che dicevano di vedere la Madonna, ma non era vero. Io credo, adesso non ho cognizione di causa su questo, ma penso che anche ai tempi dei pastorelli di Fatima quando sono iniziate le apparizioni sicuramente altri bambini potevano dire di vedere la Madonna o di avere dei segni straordinari del cielo, così come è successo a San Giovanni Rotondo quando padre Pio aveva quelle grandi manifestazioni mistiche, tante persone si sentivano dei mistici, ma non era vero. Ecco, allora bisogna fare il discernimento. La realtà spirituale esiste perché esiste Dio, esiste la Beata Vergine Maria, esistono gli angeli, esistono i santi, esistono i miracoli, però bisogna fare un discernimento serio che sia di una razionalità illuminata per comprendere quando è Dio che si manifesta oppure quando sono delle fantasie o, peggio ancora, quando potrebbero essere delle vere e proprie manifestazioni diaboliche. Ecco, quindi ho voluto fare questa introduzione per chiarire un po' queste situazioni che purtroppo oggi è molto molto diffusa, cioè quella del falso misticismo oppure quella della totale chiusura alla realtà spirituale. Sor Lucia, allora la bambina, dice alla Beata Vergine Maria, «Che cosa vuole da me vostra grazia?» chiede Lucia. Risponde la Madonna, «Voglio che continuiate a recitare il rosario al fine di ottenere la fine della guerra. In ottobre nostro Signore verrà, così come anche nostra Signora addolorata è del Carmelo, il San Giuseppe con il bambino Gesù, per benedire il mondo. Dio è soddisfatto dei vostri sacrifici, ma non vuole che dormiate con la corda, portatela solo di giorno». Ecco, carissimi, analizziamo adesso un po' queste frasi della Madonna, principalmente ecco, Lucia che si rivolge a lei, «Cosa vuole da me vostra grazia?» inizia sempre l'incontro con la Madonna con queste parole, «Cosa vuole da me?». Anche noi dovremmo chiederci, o Dio, o Madre Santa, cosa volete da me, cosa volete da noi? Perché è importantissimo che la volontà di Dio si compia nella nostra vita, perché nella sua volontà è la nostra pace e la piena realizzazione della nostra vita. Al di fuori della volontà di Dio la nostra vita è un fallimento. Non c'è niente da fare, possiamo cercare di realizzarci in tutto quello che c'è nel mondo, nel cercare il successo, nell'avere molti soldi, nel trovare il divertimento, il piacere carnale, non c'è niente da fare. Nulla di quello che c'è nel mondo ci realizza pienamente e specialmente quando viene vissuto in modo distorto. Ecco che noi abbiamo dei giovani veramente frustrati, delusi, depressi, alcune volte persino schizofrenici. Pensate quanto sta aumentando nell'ambito giovanile l'anoressia, la bulimia. Che cosa rappresentano queste malattie? Il rifiuto della vita. Cioè i giovani esprimono nell'incapacità di riuscire ad introdurre il cibo dentro di sé, un rifiuto della vita, questo vuol dire. E un voler lasciarsi andare e morire lentamente perché se mangiano rimettono il cibo oppure non riescono per niente a mangiare il cibo. E stanno aumentando a dismisura senza considerare poi che i suicidi nell'ambito giovanile si sono quadruplicati. Proprio una cosa spaventosa. Perché tutto questo? Perché non si compie nella nostra vita e non si ricerca prima di tutto la volontà di Dio. La volontà di Dio deve essere il criterio che ci deve guidare nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nell'ambito lavorativo. Se noi andiamo fuori della volontà di Dio, come dicevo prima, possiamo guadagnare molti soldi, avere tutti i piaceri carnali che vogliamo, avere il successo delle folle, saremo vuoti dentro. Pensate a Whitney Houston, questa straordinaria cantante che affascinava il mondo con una voce meravigliosa, bellissima e ricca di grandissimo successo a livello mondiale, si è suicidata. E dopo di lei segue la stessa fine, la stessa strada, la figlia. Terribile. Oppure Amy Winehouse, quest'altra cantante di successo, anche lei morta suicida e ne potremmo citare chissà quanti. Se Whitney Houston fosse rimasta invece a cantare nel coro parrocchiale, oppure a fare la mamma di famiglia, non sarebbe giunta al suicidio. A cosa è servito a lei raggiungere il massimo del successo a livello mondiale? Sicuramente in tutto questo c'era di mezzo lo zampino di Satana e poi alla fine perdere tutto. E speriamo che poverina non abbia perso l'anima per via di questo atto spaventoso che è il suicidio. Ecco, carissimi, dobbiamo ricercare nella nostra vita la santa volontà di Dio. Ed è quello che dice Lucia. Che cosa vuole da me vostra grazia? Parole semplicissime della Beata Vergine Maria. Voglio che continuiate a recitare il rosario al fine di ottenere la fine della guerra. Ecco, prima richiesta semplicissima, umile, piccolissima, per ottenere un immenso beneficio, un immenso risultato. La fine della prima guerra mondiale. recitare una semplice corona. Io ho qui due di fronte a me. Ecco, una è fatta con dei grani che sono tutte medaglie di San Benedetto contro il maligno e l'altra una coroncina di legno semplicissima di Meggiugorie con immagine della Regina della Pace di colore blu. Ecco, con queste semplicissime armi, con questi oggetti semplicissimi, era possibile ed è stato possibile fermare la prima guerra mondiale. Sembrano cose assurde, no? Per chi ha una mente imbevuta di razionalismo illuminista. Invece nella razionalità luminosissima e semplicissima della fede, Dio si vuole servire di strumenti piccoli, poveri, umidi, per compiere cose grandiose, straordinarie, perché per mezzo di questa preghiera del Santo Rosario è possibile unire le proprie preghiere alle preghiere purissime e onnipotenti di grazia della Beata Vergine Maria e così toccare il cuore di Dio e ottenere dei benefici immensi per l'intera umanità, cioè la fine della guerra. Tant'è che la Beata Vergine Maria dirà a Meggiugorie che con il digiuno e la preghiera è possibile non solo fermare le guerre, ma anche fermare gli eventi naturali, i terremoti, i maremoti, i tsunami. Ecco, è possibile con la preghiera e il digiuno fermare gli eventi naturali, perché Gesù è il Signore, Gesù è Dio, Gesù è il creatore dell'universo e se noi chiediamo a Lui con fiducia e con il cuore, con una preghiera pura, una grazia che può essere una grazia grande, questa grazia può essere concessa. Tant'è che Gesù stesso ha detto, dove due o tre si uniranno nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro, in verità vi dico, se due o tre sulla terra si accorderanno per chiedere qualche cosa al Padre mio, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Capite carissimi amici e amiche? Allora impegniamoci sempre più a pregare con devozione, con profondità, con il cuore, come dice la Beata Vergine Maria a Meggiugorie, il Santo Rosario e non solo il Santo Rosario ma tutte le altre preghiere, specialmente una partecipazione intensa, nel modo più intenso possibile alla Santa Messa, dove lì c'è lo stesso sacrificio redentore del Figlio di Dio. E poi continua la Madonna. In ottobre nostro Signore verrà così come anche nostra Signora addolorata e del Carmelo. Ecco, voglio fare una spiegazione di queste parole della Madonna. Come mai lei che è la regina del Santo Rosario di Fatima dice che verrà nostra Signora addolorata e del Carmelo. Quindi esistono altre due Signore, cioè altre due Madonne? Assolutamente no. Lei dice che verrà sotto il titolo di nostra Signora addolorata e sotto il titolo della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Tant'è che noi sappiamo che nelle litanie facciamo un elenco abbastanza lungo di titoli della Beata Vergine Maria che esprimono alcune sue virtù, alcune sue qualità, ma nella litania ne diciamo alcune decine. Invece i titoli della Beata Vergine Maria sono immensi, sono tantissimi, saranno migliaia e migliaia su tutta la pace della Terra. Perché questa moltiplicazione di titoli? Per venire incontro alle nostre necessità, per venire incontro e incarnarsi nell'ambiente in cui la Beata Vergine Maria appare, per farci sentire sempre di più la sua vicinanza attraverso questi titoli. Ecco, nostra Signora addolorata, no? Per venire incontro al dolore di quelli che soffrono e anche per farci capire che lei ancora oggi soffre e ha manifestato questo suo cuore addolorato attraverso le lacrime, ad esempio a Siracusa, ma poi sappiamo a Civitavecchia le lacrime di sangue e anche in altri posti. A Civitavecchia, vicino Roma, la Beata Vergine Maria ha pianto nelle mani di un vescovo che io ho conosciuto di persona perché era qui delle nostre parti di Pargeria. Quindi questo vescovo che non credeva assolutamente che la Madonna piangesse sangue, a un certo punto si trova in mano la statuina della Madonna di Meggiugorie che lacrime sangue e ne rimane sconvolto e da allora diventerà un apostolo della Beata Vergine Maria di quelle apparizioni e porterà la statuina anche da San Giovanni Paolo II e il Papa disse a questo vescovo che quando lui fosse morto di dire che aveva venerato quella statuina, per dire che riconosceva non soltanto la lacrimazione di sangue ma anche l'apparizione della Madonna a Meggiugorie. Ecco quindi oggi San Giovanni Paolo II è santo e se ha fatto quel gesto noi ne dobbiamo tenere conto veramente. Sono gesti dammatici, lacrimare sangue che la Madonna fa per farci comprendere il tempo difficilissimo, terribile che stiamo vivendo. E se piange nelle mani di un vescovo che rappresenta la Chiesa, che rappresenta un apostolo, e beh questo bisogna saperlo interpretare. E poi anche come signora del Monte Carmelo e poi dice anche che verrà San Giuseppe con il bambino Gesù per benedire il mondo. Dunque tutta la Santa Famiglia, la Madonna, San Giuseppe e il bambino, la Santa Famiglia per benedire il mondo. E a Civita Vecchia la Madonna ha chiesto proprio questa preghiera per la famiglia e non sappiamo in che situazione oggi si trova la famiglia come istituto matrimoniale cattolico, cioè la gran parte dei giovani ormai non si sposano più in Chiesa ma convivono o al massimo fanno un'unione civile. Pochi sono quelli che si sposano in Chiesa e moltissimi di quelli che si sposano in Chiesa divorziano. È un tempo veramente drammatico. Ecco, viene la Santa Famiglia per benedire il mondo. Dio non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva. Quindi Dio viene attraverso la Santa Famiglia per benedire il mondo, per il bene del mondo. E poi dice Dio è soddisfatto dei vostri sacrifici ma non vuole che dormiate con la corda, portatela solo di giorno. Ecco, i pastorelli come abbiamo detto nelle precedenti trasmissioni incominciano a fare delle penitenze veramente pesanti e la Madonna dice no, non dovete fare penitenze troppo pesanti, accetta che i pastorelli portano legato questo ciliccio così un po' improvvisato, una corda legata intorno ai fianchi per soffrire e i bambini la portavano anche la notte, tant'è che si era quasi attaccata alla carne e la Madonna che accetta il sacrificio, è lo stesso Dio, non vuole però che loro vadano oltre le loro capacità e dunque dice non vuole che dormiate con la corda, quindi portatela solo di giorno. Ecco, però di giorno fa sì che essi la portino, quella corda. Noi invece ai nostri bambini siamo incapaci di fargli fare anche il più piccolo sacrificio ed ecco questa gioventù abudica, senza volontà e anoressica che rifiuta la vita, perché non è capace di affrontare i sacrifici che la vita comporta. Quindi carissime mamme che siete in ascolto, vi raccomando, non dovete essere sicuramente dure con i vostri bambini ma sappiatele, sappiatele educare anche ai piccoli sacrifici e a collaborare con il loro impegno, con i piccoli lavoretti anche all'andamento della famiglia, tutto quello che serve, altrimenti vi troverete dei ragazzi veramente incapaci di affrontare le difficoltà della vita. Poi continua Lucia, c'è qui questa piccolina che è sordomuta, vostra grazia non vorrebbe guarirla? Nostra Signora rispose che fra un anno sarà migliorata. Ecco vediamo una richiesta di preghiera di guarigione, tant'è che Gesù stesso apparendo sul monte dell'Ascensione ai suoi apostoli e discepoli disse, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Quindi la preghiera di guarigione è una preghiera lecita, va fatta assolutamente, io spesso faccio preghiera di guarigione e devo dire che ci sono state delle guarigioni straordinarie, non solo io, insieme ai cenaco di preghiera che abbiamo su Whatsapp, siamo circa un 700 credo persone, 6-700 persone che preghiamo e quindi questa preghiera che dalla terra sale verso il cielo è una preghiera che spesso viene esaudita, non sempre bisogna dire e vedremo anche il motivo, vedremo più male. Quindi carissimi, dobbiamo pregare per i malati non solo per il conforto, che è la prima cosa e perché abbiano la forza di accogliere la sofferenza e di portarla con amore, sicuramente questa è la prima cosa che dobbiamo fare, ma poi anche per la guarigione fisica, per la guarigione psicologica, per la guarigione morale, ecco dobbiamo pregare per la guarigione, è un atto di misericordia spirituale, pregare per i vivi e per i morti e poi anche per la liberazione, è importante perché oggi siamo in un tempo in cui diminuendo tantissimo la fede e la preghiera, tante persone soffrono di questi mali spirituali, cioè sono o posseduti o sono vessati dal maligno e questa è una cosa evidentissima, tant'è che come vi dicevo a Milano il cardinale prima di questo è stato costretto dalle richieste pressanti di una folla di fedeli a istituire 30 nuovi esorcisti, 30 e sono tutti oberati di lavoro, perché come vi ho detto altre volte, lo dico in quella trasmissione che riprenderò dopo aver finito l'apparizione di Fatima, leggendo questo bel testo di padre Gabriele Amort, nuovi racconti di un esorcista, vanno dai maghi in Italia circa 20 milioni di persone e moltissime di queste persone che vanno dai maghi fanno malefici e fatture, maledizioni per fare del male agli altri e purtroppo come si fa il male agli altri attraverso gli spiriti maligni, è una cosa terribile e io ho incontrato delle persone veramente che soffrono tantissimo a causa di questi mali malefici, hanno famiglie distrutte, qualche persona è morta perché è possibile anche uccidere attraverso le fatture e i malefici, sono stato l'altra sera a Torino per un bell'incontro di preghiera al quale hanno partecipato 180 persone penso almeno e diverse persone soffrivano di questi mali malefici, abbiamo fatto una preghiera molto forte, ho fatto anche la preghiera di origione dell'albero genealogico e a un certo punto io stesso ho sentito una forte presenza diabolica, perché quando si lotta contro Satana lui si manifesta anche, si fa sentire e alcune persone veramente manifestavano queste presenze anche con un malessere fisico molto visibile, ecco bisogna pregare per la guarigione e per la liberazione ed ecco che la Madonna risponde abbastanza positivamente a questa richiesta di Lucia e fra un anno sarà migliorata. E poi ancora dice Lucia ho ancora tante altre richieste, le une per una conversione, le altre per una guarigione, quindi chiede conversione e guarigione, io penso che queste richieste per la conversione siano ancora più importanti di quelle per la guarigione, perché anche la conversione è un vero e proprio miracolo nell'ordine della grazia, voi pensate un'anima che è lontana da Dio, che ha una mente completamente ottusa, chiusa alla grazia di Dio, che vive nella tenebre del peccato, che schiava dei propri sensi, che schiava dei peccati mortali, come fa a liberarsi? Non ce la fa da sola, ci vuole veramente una grazia straordinaria di Dio che la guarisca nella mente e nello spirito e la distacchi da quel peccato, la illumini e faccia comprendere l'importanza di credere in Dio, la presenza di Dio nella sua vita, l'amore e la misericordia di Dio che vanno incontro a lei. Quindi dobbiamo pregare principalmente per la conversione, questo sicuramente è la prima cosa, perché la conversione salva l'anima, mentre la guarigione no, non tutti quelli che vengono guariti si convertono, tant'è che noi abbiamo visto dei dieci lebrosi del Vangelo, uno soltanto torna indietro a ringraziare Gesù, a riconoscere che è stato lui l'origine della sua guarigione per un atto di misericordia. Gli altri nove vanno, così come ha detto Gesù, al Tempio e fanno il loro compito formale di farsi riconoscere dai sacerdoti che sono guariti, basta, si prendono la grazia e vanno via da Gesù. Invece uno torna indietro, questa è la conversione, ritorna indietro, ritorna da Gesù, metanoia, il cambiamento di mentalità, riconosce in Gesù il suo Signore e torna a ringraziarlo, colui che lo ha beneficiato. La Madonna risponde, ne guarirò alcuni, ma gli altri no, perché il nostro Signore non si fida di loro. Ecco, questa è una risposta che dobbiamo veramente riflettere, pensare. Perché tante volte le richieste di preghiera non vengono accolte da Dio per la guarigione delle persone? Perché alcuni fanno tesoro di quella guarigione e si convertono e rendono lode e gloria a Dio con la loro vita. Ci sono queste persone, ce ne sono tanti anche, ma altri no. Altri fanno come hanno fatto i nove lebrosi, si prendono la grazia e se ne vanno via. Infatti, dice, il nostro Signore non si fida di loro, perché in altre parti, in altre apparizioni, la Madonna ha detto, userebbero le mie grazie per peccare. Quindi Dio non guarisce, non guarirà una persona che dopo essere stata guarita continua a fare una vita peccaminosa. Allora iniziare già fin da prima a fare una vita in grazia di Dio a pregare, a fare penitenza, a riconoscere i propri peccati, a confessarsi, a partecipare alla Santa Messa. Sicuramente possono muovere di più il cuore di Dio per ottenere una grazia spirituale o materiale. Ma alcuni pensano che basta dire qualche preghiera a un Padre nostro o a Maria e continuare tranquillamente a peccare. Ad esempio coloro che vivono nell'adulterio con molta difficoltà otterranno una grazia. Perché purtroppo l'adulterio è un peccato grave, è un peccato mortale. Quindi bisogna liberarsi di questo peccato per poter ottenere delle grazie straordinarie. Dio sicuramente va incontro a tutti, ma appunto non si fida di loro perché userebbero le sue grazie per peccare. E allora concede la grazia a coloro che ne fanno buon uso. Continua Lucia. Alla gente piagerebbe molto avere qui una cappella. Risponde la Madonna. Con metà del denaro ricevuto fino ad oggi si facciano delle barelle da processione e le si porti alla festa di Nostra Signora del Rosario. L'altra metà sia destinata per aiutare la costruzione della cappella. Ecco come vediamo, come anche a Lourdes, la Madonna chiede che si facciano delle processioni, si costruisca la cappella. La Madonna vuole che si facciano le processioni. Perché ci sono alcuni, ad esempio come i protestanti, che dicono che noi adoriamo le statue, che siamo come quelli che portano sulle spalle il vitello d'oro e così via. Invece è la stessa madre di Dio che chiede che si facciano le processioni e che si porti a spalla con questa barella la sua immagine. Quindi è una cosa che fa aumentare la devozione, ma deve essere fatta nello spirito di fede e di preghiera. Non come ormai spesso succede che le processioni sono soltanto un chiacchierare, un ridere, uno scherzare e una bella passeggiata tanto per perdere tempo e per disturbare anche quelli che stanno pregando. Questo non è una cosa buona. Questo significa profanare un momento santo. Perché la processione è una paraliturgia, è un momento sacro e va fatto con rispetto. Tant'è che noi siamo stati quest'anno a Fatima con un gruppo di pellegrini e lì a Fatima tutti hanno partecipato alla processione dell'immagine della Beata Vergine Maria di Fatima in un religioso silenzio, con attenzione, con questa candelina, con il flambeau per esprimere la fiamma della propria fede, pregando, cantando, con il cuore aperto. E sono state delle belle processioni, veramente delle belle processioni, come sono stato anche a Lourdes, lo stesso lì. Ma tante volte purtroppo nelle nostre comunità questo non accade. E allora invece di ottenere delle grazie facciamo dei sacrilegi, di cui dovremo rispondere, perché la nostra vita rimane tutta scritta nel Libro di Dio. Sicuramente i sacrilegi sono dei peccati molto gravi, specialmente quelli che si compiono nella Santa Messa. E poi anche questi che si compiono in questi atti sacri, che possono essere appunto le processioni o altre devozioni religiose. e poi ancora ecco, l'altra metà sia destinata per aiutare la costruzione della cappella. La Madonna vuole che si costruisca questa chiesetta, questa cappellina, che ancora c'è lì a Fatima. Perché oggi magari si pensa, sì, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, e però i luoghi di culto, i santuari non vengono aiutati. No, sono importantissimi. I santuari specialmente, ecco, io mi trovo qui in un luogo che ormai sta diventando un luogo sacro, ma il nome stesso di questa località dove si trova la nostra associazione dedicata al Sacro Vore di Gesù è Salvatore. Località Salvatore, perché anticamente qui c'era un convento basiliano con una chiesa dedicata al Santissimo Salvatore, e da questa chiesetta ha preso nome tutta la località. e quindi è importante riscoprire questi luoghi di spiritualità che Dio ha scelto e che ha benedetto, e dove Lui concede delle grazie straordinarie, specialmente l'aumento della fede e la speranza e della carità. Quindi bisogna aiutare che i luoghi religiosi si sviluppino. pensate se non ci fosse stata Fatima, se non ci fosse stato Durd e oggi Meggiugorie. No, sono dei luoghi dove milioni di persone si convertono e poi riscoprono la carità verso il prossimo. Lucia racconta ancora di aver offerto alla Madonna due lettere e una piccola boccetta di acqua profumata, che le erano state date da un uomo della parrocchia di Olivar. Quindi semplicissimi doni, vabbè, le due lettere, c'erano sicuramente delle richieste di preghiera e poi questa boccetta di acqua profumata. Offrendole alla Madonna, a Nostra Signora le disse, mi hanno dato questo, vostra grazia lo vuole? Diciamo l'offerta di una bambina che con semplicità dà alla regina dell'universo queste due lettere e questa boccettina di acqua profumata. Ma la Madonna non risponde in modo sgarbato chiaramente. Ciò non è adatto al cielo, rispose Nostra Signora. Ecco, con semplicità, le ha detto la verità. Nel cielo non serve questa boccetta di acqua profumata e non c'è bisogno neanche delle lettere. Perché? Perché lei già conosce il contenuto delle lettere. E poi, in ottobre farò il miracolo affinché tutti credano. Ecco, annuncia questo straordinario miracolo che è qualcosa di immenso questo miracolo. Il miracolo del sole che poi vedremo e approfondiremo. Affinché tutti credano. Questo grande segno per aiutare la fede. E infatti, proprio per via di questo grande miracolo, tantissime persone si sono convertite ed erano atei, comunisti, massoni, diventarono tutti dei ferventi credenti. Poi cominciò a innalzarsi scomparendo come le altre volte. Bene, carissimi e carissime, abbiamo concluso questa lettura della quinta apparizione di Fatima. Adesso se qualcuno o qualcuna di voi ha qualche domanda, risponderò come riesco. Ecco, intanto saluto qualche altro amico o amica in collegamento. Francesca Mancini, Concetta, Giovanni Biferno, Giammona, Domenico Zancone, Sara Baldo, Patetta Maria Grazia, Rosanna Perrone, Gianni Ennerita Bruno, Alcio Cavallaro, Antonietta Latiano, Nardi Sara, Donatella Monaco, Maria del Duca, Rosetta Felicetta, Paolo Di Dio. Ecco, carissimi, vediamo qualche vostra domanda. Sara Baldo mi dice, Don Pietro, posso recitare da sola le preghiere di guarigione e liberazione dell'albero genealogico? Sì, carissima Sara le può tranquillamente recitare, però io direi prima di iniziare a recitare queste preghiere di fare un bel santo rosario, proprio per essere carica spiritualmente, per essere protetta dalle conseguenze che, perché è sempre uno scontro col maligno, quindi bisogna essere forti spiritualmente. Se si recita prima un bel rosario, ci si carica spiritualmente, magari se si è in grazia di Dio perché si è fatta una bella confessione, se si è partecipata dalla Santa Messa, ecco poi si possono fare queste preghiere, sia di guarigione che di liberazione dell'albero genealogico, perché come vi dico l'altra sera io le ho fatte, le ho fatte dopo aver recitato prima il santo rosario, poi la Santa Messa, poi un'ora e mezza quasi di adorazione della corona di riparazione del fiducia del Sacro Corso di Gesù e poi ho fatto queste preghiere e a un certo punto ho sentito una presenza veramente diabolica, molto molto, molto negativa e se non avesse avuto tutta questa preghiera non so che fine avrei fatto, perché c'è il pericolo anche di ricevere delle brutte conseguenze, quindi bisogna caricarsi e poi scontrarsi col male e siamo sicuri di vincere, perché ci vuole una fede forte, quindi tranquillamente le può fare però con questa preparazione. Valeria, parlare, dice, cuore immacolato di Maria, intercedi per me, per le nostre famiglie, per i giovani, gli ammalati, per i sacerdoti, per il mondo intero, sì, ci uniamo tutti alla sua preghiera, carissima Valeria. Crocetta Vella, vorrei sapere il digiuno quando si fa? La Beata Vergine Maria ha chiesto il digiuno due volte alla settimana, il mercoledì e il venerdì, il digiuno deve durare almeno 24 ore, io penso che vada bene dalla cena precedente alla cena successiva, cioè 24 ore, come si fa? A pane e acqua, quindi durante la giornata non si prende il caffè, perché alcuni dicono posso prendere il caffè la mattina? No, perché il caffè spezza il digiuno. Miriana risponde a questa richiesta specialmente dei pellegrini italiani a Meggiugorie, dice sì, lo puoi prendere il caffè, dice ma molto presto, prima che la Madonna si alzi, chiaramente una battuta per dire se dobbiamo fare un sacrificio lo dobbiamo fare, ecco, quindi tranquillamente si fa il digiuno dalla cena precedente alla cena successiva con un po' di pane e invece si può bere molta acqua, tant'è che padre Slavko, che è un santo sacerdote, morto veramente in concetto di santità e la Madonna ha detto che è con lui, diceva, gli italiani non sapete fare il digiuno, quando si digiuna bisogna bere molta acqua, questo perché? Perché chiaramente il nostro stomaco, specialmente con la vita stressata che facciamo, produce molti succhi gastrici e non si riesce a reggere molto con questo bruciore di stomaco, allora invece l'acqua manda via tutti i succhi gastrici e aiuta a fare un digiuno migliore e che poi si possa protrarre anche nel tempo. Per coloro che non riescono a farlo, io consiglio di farlo tutto l'anno, per quelli che hanno la salute di farlo, per coloro che non riescono a farlo tutto l'anno possono iniziare ad esempio in avvento e in quaresima e magari invece di farlo due volte alla settimana si fa una volta alla settimana e poi un po' alla volta si aumenta. mi state salutando Pasquina Modeo e anche gli altri. Sì, siamo tutti donno di Dio, io dico sempre che sono soltanto un piccolo strumento nelle mani di Gesù e Maria, tant'è che la Madonna a maggiori dice, dice sempre, siate disponibili, ognuno di voi è importante al mio piano, ognuno di voi, ciascuno di voi carissimi e carissime è importante al piano di Maria Santissima, quindi tutti siamo importanti. ecco, non vedo altre domande, quindi se non ci sono domande, se ci sono, con piacere cercherò di rispondere, se non ci sono ci avviamo alla conclusione perché sono quasi le 23 e quindi concludiamo come sempre con un atto di consecrazione alla Beata Vergine Maria. Vi ricordo sempre di mettere un mi piace e di condividere, il mi piace perché si diffonde di più sulle vostre pagine, quindi i vostri amici ricevono la notifica dei mi piace, credo, e poi di condividere, così possono vedere direttamente il video e magari se non subito, adesso in diretta che è finito, lo possono vedere dopo, in differita. Quindi facciamo anche noi adesso una preghiera di consecrazione al cuore immacolato di Maria. Ecco, vediamo cosa offriamo noi a Maria nella preghiera di consecrazione. Offriamo quello che siamo, il nostro spirito con le sue aspirazioni, la nostra mente con i suoi pensieri, intuizioni, angosce e desideri, il nostro corpo con tutte le sue facoltà e sofferenze, il nostro cuore con tutti i suoi affetti, i sentimenti, la capacità di amare e di donare. Quello che facciamo con la consecrazione, ogni azione, ogni parola, gesto, ogni lavoro, spesso ci sembrerà di non avere nulla da offrire a Maria, perché sentiremo tutta la realtà dei nostri limiti umani e spirituali, l'incapacità di compiere il bene che vorremmo, il peso del nostro peccato, ma è proprio questo che dobbiamo mettere nel cuore e nelle mani di Maria. Lei prende tutto di noi, lo arricchisce dei suoi meriti e lo offre al Padre come fosse suo. Imitare Maria, questo è il primo passo che scaturisce dalla consecrazione a lei e che ogni giorno, e che giorno dopo giorno, dà spazio in noi al volto di Cristo e ci rende suoi testimoni. Come si vive la consecrazione a Maria? La consecrazione deve essere un atto libero e cosciente, accettato e vissuto come un dono, per prepararsi efficacemente a compiere questo atto ebbene conoscere ciò che la Chiesa insegna sulla Madre di Dio e approfondire con l'aiuto di qualche testo adatto il significato di tale consecrazione. Stabilita una data, in un momento di preghiera o anche al termine di una celebrazione eucaristica, si recita la formula di consacrazione. Ecco, noi la reciteremo alla fine di questa spiegazione dell'apparizione della Madonna. E in seguito è bene rinnovare frequentemente, quindi anche tutti i giorni carissimi, dice la travergine Maria e Meggiugorie, di consacrarci al cuore di Gesù e di Maria anche con semplici parole. Padre Colbe invitava a portare la medaglia miracolosa, ma soprattutto ad essere veri figli apostoli di Maria nel proprio ambiente. Con la consecrazione, infatti, non si crea solo una relazione esterna con Maria, diventando suoi figli, ma si opera un'autentica e graduale trasformazione di tutto il nostro essere e agire. in lei e per mezzo di lei, in Gesù. Bene, carissimi, adesso facciamo questa consacrazione di San Luigi Maria Grignonda Monforte, consacrazione di se stesso a Gesù Cristo, sapienza incarnata per le mani di Maria. Io la farò in prima persona e ciascuno di voi si unirà alla mia preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O sapienza eterna ed incarnata, Gesù, degno di immenso amore e di adorazione, vero Dio e vero uomo, figlio unigenito dell'Eterno Padre e di Maria sempre Vergine, ti adoro profondamente nel seno e nella gloria del Padre durante l'eternità e nel seno della Vergine Maria, tua degnissima madre nel tempo dell'incarnazione. Ti ringrazio di esserti spogliato della gloria e di aver assunto la condizione di servo per liberarmi dalla spietata schiavitù del demonio. Ti rendo lode e gloria perché hai voluto obbedire in tutto a Maria, tua santa madre, per rendermi, mediante lei, tuo fedele schiavo di amore. Purtroppo io sono ingrato e infedele, non ho mantenuto le promesse solennemente fatte nel battesimo, non sono stato fedele ai miei impegni, ormai non sono degno di essere chiamato tuo figlio o servo, merito il tuo rifiuto e la tua indignazione e non osso più avvicinarmi da solo alla tua santa ed augusta maestà. Mi rivolgo quindi all'intercessione misericordiosa della tua santa madre che mi hai data per mediatrice presso di te. Per suo mezzo spero di otterrenere da te il pentimento e il perdono dei miei peccati e di conseguire la sapienza per sempre. Ti saluto dunque, Maria Immacolata. Vivo Tempio di Dio, in te l'eterna sapienza si nascose per essere adorata dagli angeli e dagli uomini. Ti saluto, Regina dell'Universo. Tu governi tutto quanto è sottomesso alla sovranità di Dio. Ti saluto, sicuro rifugio dei peccatori. Tu sei per tutti asilo di misericordia. Ascolta i miei desideri di ricevere la Divina Sapienza e accogli a tal fine le promesse e i che la mia pochezza ti offre. Io, Don Pietro, ciascuno di voi può nominare il suo nome, peccatore infedele, rinnovo e riaffermo oggi nelle tue mani le promesse del mio battesimo. Rinuncio per sempre a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere e mi dono interamente a Gesù Cristo, sapienza e incarnata, per portare ogni giorno la mia croce ed essergli più fedele per l'avvenire. Ti affido e consacro come schiavo d'amore corpo e anima, beni spirituali e materiali, e il valore stesso delle mie opere buone, passate, presenti e future. Ti lascio pieno diritto di disporre di me e di tutto quanto possiedo, senza eccezioni, alla maggior gloria di Dio per il tempo e per l'eternità. Accogli, Vergine Benigna, questa umile offerta della mia schiavitù. Con essa intendo onorare e imitare la volontaria sottomissione di Cristo alla tua maternità. Intendo ancora rendere omaggio al potere che l'uno e l'altro avete su di me, povera creatura e misero peccatore, e ringrazio l'augusta trinità dei doni che ti ha elargiti. Prendo il deciso impegno di lavorare d'ora in poi come tuo vero schiavo per il tuo onore e di obbedirti in tutto. O Madre emirabile, presentami tu stessa al tuo amatissimo figlio come suo eterno schiavo. Egli, che mi ha redento per tuo mezzo, ancora mediante te mi riceva. Madre misericordiosa, ottienimi la grazia della vera sapienza di Dio. Mettimi pertanto tra coloro che tu ami, istruisci, guidi, nutri e proteggi come tuoi figli e schiavi di amore. Vergine fedele, rendimi in ogni cosa un perfetto discepolo, imitatore e schiavo della sapienza incarnata, Gesù Cristo tuo figlio. Per la tua intercessione e il tuo esempio giungerò alla pienezza della sua pietà in terra e della sua gloria in cielo. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esu di figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Adesso, carissimi, vi imparto la santa benedizione sacerdotale che la stessa benedizione di Gesù. Aprite i vostri cuori e sicuramente la grazia di Dio vi ricolmerà di ogni bene e di ogni pace. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, vi libera da ogni male, maleficio, maledizione, sortileggio, incantesimo, fattura, legatura, stregoneria, invidia, gelosia, odio, rancore, malocchio, ogni forma di male occulto dalle conseguenze delle messe nere. Vi dia pace, serenità, salute, prosperità. Vi libera da ogni pericolo, comunione familiare, fedeltà e fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia giungere alla gioia eterna del Paradiso insieme con tutti i vostri cari. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti. Grazie.